Questo canale YouTube è dedicato a tutti i fan del calcio, in particolare quelli bianconeri. Su questo canale, è possibile trovare informazioni aggiornate e approfondite sui risultati ufficiali della serie, sui numeri e le statistiche sulla Juventus, sui dibattiti in diretta di calcio mercato e sulle ultime notizie bianconero. Ci saranno anche aggiornamenti costanti sui match della Juve, con interviste ai giocatori e agli allenatori, analisi dei migliori giocatori della squadra, aggiornamenti sulle condizioni fisiche e analisi della performance degli atleti. Questo canale fornirà anche una panoramica approfondita di tutto ciò che succede nella serie A, dall'analisi dei possibili nuovi acquisti alla previsione dei risultati dei prossimi incontri. Se sei un appassionato di calcio, questo canale YouTube è un'ottima risorsa per tenerti aggiornato su tutti gli aspetti della tua squadra del cuore.